Dopo quel primo incontro di Parma, la promessa che Franco Basaglia mi ha fatto è stata quella di dire io sto costruendo un gruppo di giovani, andrò a lavorare a Trieste, forse nell'anno, e se tu vuoi venire e io mi sono raggiato, ma cosa sa sto uomo di me? Sono appena laureato, neanche laureato, mi sarei laureato in giugno e ho capito, ce l'ha detto in maniera esplicita, lui stava costruendo un gruppo di giovani perché pensava che questo progetto di cambiamento che ormai era più chiaro che a Gorizia, non poteva avere i tempi del cambiamento della testa degli psichiatri che c'erano, noi dobbiamo costruire una formazione nuova, uscire dall'accademia. Io venivo dall'università, mi ero appena laureata, certo ho trovato una situazione in cui non era facile trovare un proprio ruolo e capire che cosa fare e anche capire cosa si faceva, era l'inizio della trasformazione del manicomio e si viveva quello che poi tante volte Franco Basaglia ha chiamato la fase della distruzione, noi cercavamo di eliminare ciò che impediva l'incontro. La prima operazione che Basaglia ha fatto qui e lì ho cominciato a capire che cosa era questa storia, è stata l'apertura delle porte, le porte aperte, già a Gorizia era accaduto questo, la comunità terapeutica, qui si riproponeva e si riproponeva con altri obiettivi, le porte aperte, gli oggetti personali che venivano restituiti agli internati, la possibilità di muoversi e di articolare dei primi frammenti di vita sociale. Si faceva insomma tutto un lavoro che era insieme pratico, cioè che serviva per cambiare le cose, ma serviva anche per cambiare le teste, perché l'unico modo per poter iniziare su questo, direi che se c'è una cosa che caratterizza Franco Basaglia, ciò che lui ha fatto, il suo modo di muoversi, era proprio l'idea che noi stavamo iniziando una ricerca, che questa anzi era in qualche misura la premessa della ricerca e che non si poteva dire nulla sulla follia, sulla cura, sulla guarigione, ma se non si costituivano delle condizioni diverse nel rapporto con ciò che doveva essere capito. Poi c'è anche con lui Gennaro Imperatore, che è l'altro, che anche lui c'era di quelli che guideranno l'aereo. Gennaro Imperatore 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 la costruzione di un altro concetto di salute, di un altro concetto di malattia, di un altro concetto di rapporto, di accettazione, di convivenza possibile in strutture concrete di vita quotidiana che sono più vicine alla casa che all'ospedale. Un malato di mente non ha bisogno di un letto di ospedale, questa è stata la grande intuizione. Le malattie mentali sono oggi finalmente oggetto di studio e desidero prima di tutto dire la mia ammirazione per il fondatore Franco Basaglia, mancato nel 1980, e alla moglie, la senatrice Franca, un caro che si è sempre allineato con lui, Basaglia. Allora noi dobbiamo molto e ritengo che questa conferenza vive essenzialmente mettendo in evidenza l'eccezionale apporto di questa splendida figura di scienziato e di persona che ha realmente vissuto la tragica questione delle malattie mentali. Berlin, May 15, 1980 After a discussion before a huge audience in the great hall of the university, Franco Basaglia falls ill. This was the first symptom of the disease that would quickly bring his death. At home in Venice on August 29, 1980, Franco Basaglia died. A year earlier, in Rio de Janeiro, on June 28, 1979, he had been asked what the meaning of his work was. He answered, You see, the main thing is that we have shown that the impossible can become possible. 20, 15, 10 years ago, the idea that mental hospitals could actually be destroyed was unthinkable, inconceivable. Maybe asylums will come back, maybe they'll be even more repressive than before, I don't know. But anyway, we have demonstrated that you can take care of the mentally ill person in another way. And this fact is fundamental. I don't believe that success in generalizing an action is a measure of victory. That's not the point. The real point is that now we know what can be done. is difficult. Or the will feel there are